Monta la polemica riguarda l'ubicazione delle due aree per lo stoccaggio della raccolta differenziata da Grigento, site una a Villaggio Mosè e l'altra a Fondacazzo, zone che, riporta l'associazione ambientalista Mare Amico, sono state individuate dal comune il maese scorso. Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione, ha fornito anche delle immagini effettuate tramite drone. In particolare, la prima area per lo stoccaggio della differenziata sorge poco prima del centro storico di Villaggio Mosè, nei pressi del vecchio campo di calcio e, scrivono dall'associazione, a pochissimi metri dalle civili abitazioni. Lombardo aggiunge che la zona in questione era stata individuata anche nel piano di protezione civile come area di accoglienza durante gli eventi calamitosi. L'altra area è sita a Fondacazzo, nel parcheggio del Parco della Dolorata. Per ambedue le aree, rincara la dose Mare Amico, non vi attraccia di alcuna autorizzazione e non potrebbe essere altrimenti, vista la dissennata scelta fatta. Per questo motivo, dall'associazione chiedono la revoca urgente dell'ordinanza con la quale sono state individuate le due aree in questione.